cari amici e cari amiche bentornati o benvenuti sul canale mi vedete oggi come la luce la vostra luce nel cielo perché ho comprato la ring light e la sto provando quindi spero che l'illuminazione vada bene qui è praticamente buio mi sembra però dalla telecamera da quello che riesco a vedere perché manco riesco a centrare bene il video della telecamera perché non ci vedo benissimo però mi sembra che l'illuminazione sia giusta e anche la luce ho cambiato le lampade perché quelle che avevo prima che erano adatte per fare le fotografie dei dei cibi dei set di quando avevo il blog non mi sembravano particolarmente dedicate ultimamente quando è sera è sempre troppo buio ma vediamo se così funziona oggi video dei finiti beauty sedetevi prendetevi una tazza di tè una tisana alzate i piedi rilassatevi stiamo poi in compagnia perché abbiamo veramente tante tante cose e di tante cose ve ne parlerò bene perché mi sono trovata benissimo quindi video finiti beauty ultimo periodo 2022 iniziamo subito a random pesco dal cestone perché adesso ve lo faccio vedere ma è veramente stra stra pieno quindi cercheremo di essere il più veloci e concisi possibili allora terminate queste veline della carta calla giusto sono sempre buone ottime io le tengo in bagno le tengo in camera come fazzolettini come veline per tamponare il diciamola il trucco durante la giornata io mi trovo benissimo il costo è ridotto quindi continuo a comprarle e a ricomprarle scusate il casotto poi finiti questi cotton buds che sono i cotton fioc ho buttato anche la scatola di cartone che ho riciclato per vari mesi perché si è spaccata tutta adesso ne ho ricomprata un'altra comunque anche questi quando li trovo in offerta vi piacciono e li ricompro aumentare la velocità vediamo un attimo faccio la prova con voi mi sembra che sia no ok perfetto così vediamo intanto fate da spettatori poi buonissimo 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 un profumo in doccia organic shop ma lo sappiamo sono ottimi questi esfolianti per il corpo questo era alla citronella biologica e zucchero meraviglioso 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 stupendo tra l'altro l'avevo pagato una stupidata forse anche al di sotto dei due euro su notino e quando sono in offerta li compro ne ho di scorta 5 6 ma sono veramente favolosi veniva voglia di mangiarlo veramente stupendo da ricomprare sicuramente sì finita questa mista della juve si dice così ne ho comprate tre o quattro e le ho di scorta è buonissima ha un profumo delizioso una uno spruzzo un vaporizzatore molto molto leggero mi piace tantissimo e anche queste erano veramente a dei prezzi molto molto contenuti se vi capita e si trova anche in alcune farmacie io qui da me non le trovo e comunque le ho trovate su un sito internet su quei siti di parafarmacia scontate e ne ho ne ho fatto scorta questa è buonissima veramente veramente ottima finita questa crema per i capelli trattati con la decolorazione mi piace tantissimo la trovo al tigotà se non l'avete mai provata e avete i capelli decolorati come me il successo è sicuro tra l'altro la mia parrucchiera la volta che ho fatto i capelli praticamente ha usato la mia maschera perché era molto meglio di quella che utilizzava lei quindi ottima 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 della free color flash mask 5 minuti biondo platino io la metto ogni due settimane e tengo la tengo in posa per il massimo del del tempo che è consigliato che sono circa 15 20 minuti mi trovo benissimo i capelli sono lucidi sembrano anche molto più corposi fantastica 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 questa me l'ha fatta conoscere elisabetta r mi pare e mi sto trovando benissimo e non è l'unica buona che sto provando poi finito questo un minuto scrub shampoo detox per cute e capelli grassi ho sentito vari pareri su questo scrub shampoo alcuni si trovano bene altri meno io non faccio entrambi gli shampoo con questo scrub faccio prima lo scrub la prima passata di shampoo in doccia con questo e poi vado comunque con uno shampoo delicato in modo che anche se vi rimangono dei granelli perché qualche granello comunque vi rimane se no dovete veramente consumare tantissima acqua se vi rimangono dei granelli con il secondo con il secondo shampoo va via mi piace lascia i capelli leggeri profumati mi sembra anche più puliti non lo utilizzo tutte le volte che faccio la doccia lo utilizzo una volta ogni tanto due volte al mese ecco però mi mi trovo bene questo per i capelli grassi mi è piaciuto ho sentito parelli discordanti probabilmente dipende anche dalle altre tipologie mi pare ci siano tre tipologie di scrub shampoo finito questo doccia sport di balea è buonissimo insomma su questi non ci soffermiamo tanto perché sappiamo che il rapporto qualità prezzo è ottimo e ne abbiamo in scorta tanti se ne consumano tanti adesso poi che c'è anche lo shop online possiamo tranquillamente comprarli anche online anche se non abbiamo un punto dm vicino a noi insomma questi sono sempre una certezza buonissimo un profumo molto fresco di menta cetriolo molto estivo ma veramente molto molto buono poi finita questa creme questa crema di ives rocher anti cellulite l'ho trovata ottima io questa la faccio rientrare nei prodotti top del 2022 ho lì qualche piccolo scatolino con dentro i miei prodotti che sono stati per me i migliori io l'ho trovata buonissima non è super 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 economica ma allora che non che cancelli la cellulite questo non lo so e non lo specie di malattia non so neanche come chiamarla comunque di certo non sparisce con delle creme questa crema comunque lasciava la pelle molto molto più elastica molto più tonica e liscia ottima il profumo buonissimo si stende in maniera velocissima la usavo la mattina mi è piaciuta proprio proprio tanto questa sicuramente la ricomprerò se dovessi trovarla in sconto su ives rocher buona buona finito questo mousse doccia che avevo preso all'euro no non all'euro spin ma all md c'era di questa tipologia e una tipologia con la confezione rossa buono un profumo questo molto molto unisex quasi maschile ambra e musco bianco non ho scritto il pre 1 euro e 25 l'avevo sì 1 euro e 25 buono l'ho fatto finire al mauri perché poi alla fine per me era un po troppo maschile come il profumo a me è piaciuto davvero tanto e poi per il prezzo che aveva che ha l'italiano in questi giorni veramente mi sta uscendo che è una meraviglia comunque mi è piaciuta è usata questa saponetta di green pharmacy queste le compro sempre quando sono in sconto al olio d'oliva e miele manuca vediamo se trovo la traduzione in italiano in questo momento manucaone miele di manuca cos'è non lo so vediamo se c'è qualcosa in italiano potrebbe anche esserci ma è scritto talmente piccolo che io non lo vedo se qualcuno in questo momento sono un'analfabeta comunque questa è la saponetta buona molto cremosa queste saponette sono tutte molto molto buone questa non c'entra niente finito felce azzurra fresco bergamotto e fiori di cedro a me è piaciuto tantissimo tanto 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 fresco ma non che non si potesse usare in questi mesi invernali infatti l'abbiamo finito penso all'inizio di dicembre molto fresco lascia il bagno profumato mi è piaciuto tantissimo felce azzurra l'avevo un po accantonata come come marca perché mi sembrava un po vintage quanto quanto me ma con queste nuove profumazioni davvero mi è piaciuta tantissimo ottimo 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 da ricomprare sicuramente per la prossima vera primavera se c'è sì finita un'altra maschera che vi ho fatto vedere prima sono buonissime e queste le compro e le ricompro finito questo shampoo con estratto di ortica e tea tree oil antiforfora e antipurito della conad questo lo usa paolo e si trova bene quindi questi li compriamo sempre sono degli ottimi prodotti peccato che alla mia conad ci siano pochissime referenze perché è una conad piccolina favoloso 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 a questo tonico sono particolarmente legata perché è stato il mio primo tonico ho iniziato la skin care con con questo tonico tutto il mio percorso di quest'anno un tonico nutriente al collagene mi è piaciuto davvero tantissimo l'ho interrotto verso maggio giugno quando cominciava a fare caldo l'ho iniziato a gennaio l'ho interrotto a maggio giugno e l'ho ricominciato ad usare a settembre adesso l'ho finito questo va sicuramente nei top perché mi è piaciuto tantissimo un marchio coreano its skin veramente veramente buonissimo e tenete conto appunto che praticamente è durato non dico quasi un anno ma almeno sei mesi sicuramente io questo lo utilizzavo alla sera buono 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 e questo andrà nei miei top finito finalmente un altro tonico che mi è piaciuto tantissimo che è questo di giada cosmetics so che a tante persone non è piaciuto per il profumo io l'ho trovato sulla mia pelle mista grassa perfetto esfoliava lasciava la pelle veramente luminosa e anche molto più radiosa più più pulita più luminosa sicuramente più luminosa a me è piaciuto tantissimo ne ho un altro in scorta che utilizzerò l'estate prossima ma sono luminosa non lo so non capisco quindi anche questo va nei top finito da paolo questo deodorante dav original lui usa questo o comunque questa tipologia sono sempre buoni li compro e li ricompro finiti e non ce n'è soltanto uno ma ce ne sono altri non ho fatto tante maschere questa questo mese e mezzo perché il tempo per dedicarmi alle maschere era limitato a me piace farle con calma quando tempo quando tempo di rilassarmi diciamo che nel mese di dicembre non è stato possibile ogni sera c'era qualche impegno c'era qualche riunione bisognava preparare qualcosa e quindi niente devo anche dire che per esempio per forse due o tre volte ho fatto una skin care molto 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 ridotta nel senso struccaggio crema senza neanche si ero e andavo a letto perché ero veramente stanchissima ho comunque fatto skin care ma alcune volte ho fatto veramente veramente fatica questi sono dei pads pads occhi al q10 di balea era una confezione di sei bustine con due pad ogni bustina li faccio praticamente al sabato e alla domenica o al sabato o alla domenica mattina perché sono i giorni in cui dormo un po di più ma dormo un po di più e ho sicuramente quando mi sveglio gli occhi molto più gonfi e affaticati non so come mai se mi sveglio tutte le mattine alle sei il mio occhio è più riposato probabilmente è abituato a un certo tot di ore e non riesco a dormire di più comunque questi mi piacciono mi piacciono anche perché sono molto sottili si attaccano che fate una fatica a staccarli cioè come se ci fosse su l'attacca non vi fa male non vi dà fastidio quando ce l'avete ma rimangono su potete anche bagnare farvi la doccia non vi vengono via sono fantastici e mi dà l'impressione che quando li tolgo anche se soltanto una questione momentanea l'occhio sia molto più levigato molto più liscio mi sto trovando benissimo e sono forse due o tre settimane che li sto facendo di seguito infatti dovrei averne in giro anche degli altri comunque anche questi ottimi di balea poi la solita maschera per i capelli di lucia questa l'abbiamo comprata il pezzo sotto non c'è più non so questa cosa fosse rosa al flamingo e flamingo è il fenicottero giusto si c'è il fenicottero rosa dietro e niente questa lei si trova benissimo ogni tanto le compriamo anche se sono abbastanza cari quindi non è che le compriamo sempre ho finito lo shampoo air food all'anguria che avevo iniziato questa primavera mi è piaciuto tantissimo adesso vabbè questa profumazione ovviamente non è molto nelle mie corde perché l'anguria di questi periodi ovviamente non c'è devo dire che è il primo e unico shampoo che provo di questa linea ne ho sentito parlare benissimo e la mia impressione è che quando io lavo i capelli con questo shampoo siano molto molto più vaporosi morbidi ma non unti e sicuramente tengono molto di più la piega sono molto più voluminosi mi è piaciuto tantissimo sicuramente lo ricomprerò e come e anche questo facciamolo entrare netto finito il mio dav al alla pera e aloe vera e vabbè anche qui sono sono buoni sono buoni tutti sono ottimi tutti la testa finito la dentifricio antica erboristeria fresco polare menta e effetto colluttorio si è un fresco polare ma non è un fresco che ti gela via le gengive buono mi piace questi quando li trovo in offerta li compro sempre ho finito invece deodorante spray fresco note di lime e zenzero favoloso marca conad essenzia buonissimo 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 ve l'avevo già detto forse la volta scorsa come durata è la stessa c'è il servizio che fa è identico e costa un bel tocco di meno buonissimo buonissimo adesso hanno fatto anche altre profumazioni e li ho comprate questo era veramente molto fresco molto energizzante un profumo molto molto piacevole davvero molto buono finito il mio siero e qui non vedo più niente mamma mia che brutta cosa al collagene aspettate al salmone al collagene di salmone all 86,5 per cento era quel siero spray che mi aveva mandato stylevana poi io non ho più continuato la collaborazione perché loro non mi sono più fatti sentire quindi presumo che non avessi i numeri per poter fare queste cose comunque li ringrazio per tutti i prodotti che mi hanno mandato sono prodotti ottimi che io comunque ho continuato a ricomprare questo era veramente favoloso questo per me quest'estate è stata una salvezza un siero meraviglioso leggero buono 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 so che qualche amica l'ha comprato e si è trovato benissimo e ne sono contenta e anche questo finirà nei preferiti del 2022 ottimo se comunque volete comprare dei prodotti su stylevana e siccome io non ho più lo sconto perché mi avevano detto che sarebbe finito a dicembre potete tranquillamente approfittare degli sconti che offrono le varie amiche che hanno ancora delle collaborazioni tipo marina di razumashka beauty tipo la elisabetta r so che ce ne sono anche altre che fanno collaborazioni quindi potete comunque utilizzare i loro sconti e loro ne saranno felici finito finalmente questo bagnoschiuma peperosa bagnodoccia di bottega verde mi è piaciuto ma alla fine il profumo era troppo intenso e insomma non finiva più non finiva più un profumo buono ma alla fine mi ha stancato era molto molto forte si sentiva in tutto il bagno e francamente mi dava un po' fastidio quindi l'ho finito e basta chiamiamo profumazione questo sicuramente non lo ricomprerò più finito un altro evergreen della mia skin care questo balsamo struccante della Iada green tea pur cleansing balm è favoloso buonissimo mi è durato tutto l'anno non l'ho usato soltanto d'estate perché mi struccavo con l'acqua micellare e col detergente schiumoso è favoloso questi io non riesco a fare a meno dei balsami struccanti mi piacciono tanto sulla mia pelle struccano benissimo tolgono tutto e non rimane nessun tipo di residuo buonissimo 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 veramente questo ve lo consiglio e anche questo è un must have finita questa acqua micellare di cleanians pelli miste o grasse che avevo comprato quando sono andata a trieste nella mia mini vacanza di tre giorni perché poi ero arrivata in albergo e mi ero dimenticata lo struccante era tra l'altro in offerta al dm vi ricordate che vi avevo raccontato che ero andata al dm anche a trieste buona molto delicata detergente strucca purifica io generalmente non mi strucco mai con l'acqua micellare salvo in rarissime occasioni l'acqua micellare la uso alla mattina per rinfrescare il viso prima della detersione schiumosa schiumogena schiumosa come volete voi quindi per quello che serve a me ottima poi con questa forse non mi sono neanche mai struccata con le acque micellare di garnier mi sono struccata e sono portentose viene via proprio tutto e parlando di garnier questa la pure active strucca deterge e purifica visocchi e labbra è vero funziona funziona benissimo come primo step toglie praticamente quasi tutto e sono sono ottime buonissime quindi anche queste sono assolutamente da ricomprare non ci sta più niente sentirete un attimo di casino cambiamo sacchetto vi ho detto che c'era un sacco di roba queste le mettiamo lì poi finito questo bagno corpo camomilla con estratti vegetali 100% bio di ph bio che avevo comprato al mio primo viaggio alla lidl se vi ricordate quel video molto ridicolo dove dicevo che mi ero portata paolo ed era stata un'avventura buono molto molto buono adesso ne ho un altro alla vena che sto utilizzando mi piacciono molto rapporto qualità prezzo ottimo e quindi se dovessi capitare ancora cioè ci capito sicuramente alla lidl ma la stanno finendo qui a lecco dovrebbe essere pronta per marzo quindi sicuramente questi se ci sono sono assolutamente da tenere in considerazione perché sono buonissimi quindi finito un altro oh mamma dentifrigio acqua fresh allora menta fresca diciamo che sono quelli che mi piacciono di meno ma io sono affezionata agli acqua fresh perché quando ero piccola erano gli unici dentifrigi che mia mamma mi comprava e mi piaceva proprio quest'onda colorata che usciva dal tubetto quindi diciamo è un ricordo di infanzia che utilizzo volentieri preferisco altri dentifrici ma quando sono in offerta questi ogni tanto li compro mi piacciono insomma poi finito questo l'ha finito la lucia mi ha detto che le è piaciuto tantissimo shampoo dolce e se l'hai portato in vacanza questi due giorni tre giorni che è stata via trovato nel calendario dell'avvento prodotti di l'erbolario calendario dell'avvento stupendo veramente vale tutti i soldi che costa non vi ho fatto anche lo spacchettamento del calendario dell'avvento erbolario se no arrivavamo a Natale dell'anno prossimo però sono sicuramente dei prodotti da tenere in considerazione soprattutto adesso se magari faranno gli sconti il profumo wow buonissimo molto energico fresco frizzante buono 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 e quindi questo utilizzato dalla Lucy io ho finito la mia acqua rinfrescante della Balea avevo sentito anche qui dei pareri discordanti perché dicevano che comunque lo spruzzatore erogatore dava dei problemi a me sarò stata una tra le poche fortunate non ha dato nessun tipo di problema diciamo che l'erogazione non è ottima come quella di tanti altri miste di acqua e spray però non è che mi facevo la doccia ecco insomma quindi voglio dire per il costo che ha va benissimo e ne ho in scorta 3, 4, forse anche 5 perché di queste ne utilizzo tantissimo le utilizzo come mist le utilizzo per rinfrescare le maschere quando faccio le maschere in crema perché come mi ha insegnato la bravissima Giulia Cova le maschere in crema non vanno mai fatte seccare sulla pelle altrimenti cioè vi sbragate la pelle quando la tirate via ma devono essere sempre morbide quando si tolgono quindi se ci sono tipo un quarto d'ora di posa sulla pelle io ogni 5 minuti vado a rinfrescarmi con l'acqua e spray e la crema la maschera viene via tranquillamente senza far fatica e soprattutto senza irritare la pelle comunque anche questa è ottima sicuramente poi finito anche questo meraviglioso ve lo ricordate era il siero al tartufo d'alba che dirvi vi avevo già fatto una mini recensione quando mi era arrivato e quando lo stavo utilizzando diciamo che questi due prodotti sono stati veramente ottimi e li ho utilizzati per tutta l'estate molto leggeri molto freschi mi sono proprio piaciuti tantissimo sicuramente se avrò l'occasione li ricomprerò ancora ottimi 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 anche questo l'avevo comprato su Stylevana questo era il dentifricio effettivamente finito a parte che ce ne entro ancora un po' dopo lo finiremo dell'antica arboristeria fresco polare finito e non ho più il tappino fresh and clean intimo altimo e propoli questi anche questi se ci sono in offerta li prendo alcune volte alti gotali trovo in confezioni da 2-3 adesso sto ne sto utilizzando il secondo di questi mi piacciono non mi fanno impazzire però non mi danno problemi e li utilizzo volentieri finito questo olio struccante dell'Avril mi è piaciuto né nel senso che ho voluto provare a prendere un altro detergente in olio per sostituirlo al mio burro ma non è al suo livello quindi ok l'ho comprato l'ho finito ma sicuramente non acquisterò più degli oli struccanti perché a mio parere non struccano bene come il burro questo era comunque buono era certificato bio tutto quello che volete ma questi non fanno non fanno per me insomma poi anche questo è un mega top non un top finito questo midnight serum dell'oreal favoloso io non ho mai provato quello di Estée Lauder di cui dicono essere il dupe ma questo mi è piaciuto tantissimo mi è piaciuto tantissimo l'avevo trovato in offerta su makeup.it se non ricordo a 17 18 euro a me è piaciuto tantissimo lo ricomprerò sì sicuramente sì perché soprattutto se avete magari soltanto un siero nella skin care e volete qualcosa che vi rimpolpi vi regali una pelle bella polposa questo è fantastico è veramente fantastico questo ve lo consiglio al 100% e io sicuramente lo ricomprerò finito questo vitamin bomb face serum con la vitamina B5 e la niacinamide mi è piaciuto no della essence non lo ricomprerò non mi è piaciuto perché dall'inizio alla fine avevo un profumo di plastica quando lo mettevo sulla pelle mi dava l'impressione di metterci della gomma pane ma non per la pesantezza proprio l'odore e non era andato a male è stato così da quando l'ho aperto fino alla fine un profumo plasticoso falso non mi è proprio piaciuto e quindi va bene finito ma basta questo non lo ricomprerò finito il profumo al fico di strega del castello che mi è piaciuto tantissimo questo è un profumo delizioso di foglia di fico non tanto di fico non del fico maturo della foglia verde una profumazione quasi pungente buonissima mi è piaciuta tantissima non lo ricompro in questo momento perché ho comprato tanti profumi ne ho veramente tanti e quindi mi segno su un fogliettino i profumi che mi piacciono e poi magari tra 7-8 anni li ricompro magari non ci sono neanche più e sono diventati dei profumi vintage allora ho finito me ne manca solo una che c'è dentro poco che è la luzione ho finito il siero il tonico e la crema di questo kit che mi aveva mandato sempre stylevana alte verde e buonissimo 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 assolutamente da comprare in full size sì perché diciamo che la caratteristica principale sulla mia pelle è stata quella di tenere a vada il sebo assolutamente mi è piaciuto tantissimo finito tutto infatti non c'è più dentro proprio niente un kit da tenere in considerazione e probabilmente quando avrò finito un po' di scorte le comprerò in full size perché sono veramente veramente buone di maschere ne abbiamo ma non tantissime ecco qua un altro timo e propoli fresh and clean poi ho finito questa essence sì 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 alla artemisia oddio non mi sono più guardata la questa l'avevo recensita in qualche video sui prodotti coreani di skin care comunque questa mi era piaciuta sì aveva un profumo un po' particolare molto erbaceo molto terroso I am from queste sono sono buonissime ho anche la maschera che avevo detto che era buonissima della stessa linea questi prodotti coreani insomma hanno una marcia in più e oltretutto hanno dei prezzi molto molto contenuti per il valore che hanno quindi è vero magari dovrete aspettare un po' di più perché la spedizione ci mette un po' di tempo sia da Stylevana sia da YesStyle se magari comprate su quello però effettivamente ne vale proprio la pena finito lo shampoo di Balea per i capelli trattati e decolorati grigi bianchi e biondo platino buonissimo lo compro lo ricompro lo uso e lo strauso finiti i miei dischetti Avilea maxi ovali struccanti sono quelli che preferisco quelli grandi che con due passate mi pulisco comunque il viso questi mi piacciono e li compro sempre sia che siano in offerta sia che non lo siano finito anche questo deodorante che ho preso al Penny Market sì perché questa marca c'è al Penny Market devo dire che fa il suo sporco lavoro non so se ero perché era un momento particolarmente buono per la mia menopausa ma devo dire che questo non faceva puzzare ovviamente bisogna lavarsi ma questo è inutile che ce lo diciamo tutte le volte ma mi sono trovata bene era un profumo molto delicato ai fiori non invadente buono buono anche questo poi finiti cioè finiti utilizzati due cerottini mi è ritornato un po' il dolore al braccio e quindi all'occorrenza ho utilizzato due cerotti la scatola ne è dentro ancora uno di quelli che trovo al penny market sempre che hanno l'artiglio del diavolo e arnica una cosa del genere sì probabilmente avrei bisogno di qualche infiltrazione al goito però ogni tanto appunto li utilizzo ecco guardando guardando questa mi sono ricordata che non le ho più prese e forse vi avevo detto che il dolore al braccio con questo integratore che mi aveva consigliato il farmacista mi era passato ed effettivamente è quasi un mese che non le prendo più e il dolore mi è riuscito quindi adesso me lo tengo e quando finisco il video vado a a riordinarle perché le ho finite Elena Smemorina finita questa crema contorno occhi supreme di eterea peccato che ha un prezzo abbastanza alto però vedete che è vuotissima è ottima 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 ho provato soltanto due o tre prodotti di eterea ma insomma è un signor marchio italiano quindi un brand italiano molto molto valido e questo contorno occhi era veramente molto valido l'avevo acquistato per il mio compleanno con lo sconto del 30% sul sito di Elisa Nuvole di Bellezza no non Nuvole di Bellezza Nuvole di Bellezza è il suo canale Nuvole Blu comunque qualcosa del genere ma la conoscete sicuramente finito questo siero alla vitamina C di Lab Care favoloso favoloso prezzo piccolo prodotto ottimo 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 innanzitutto il profumo un profumo di agrumi non principalmente di arancio un mix di agrumi e soprattutto quando io metto un siero lenitivo alla mattina un siero lenitivo e il siero la vitamina C mi tirava la pelle ma non mi tirava che mi dava fastidio perché mi sembrava che mi tenesse l'izzigo e mi indassero insomma comunque sono solo impressioni mie ma questo sicuramente lo ricomprerò perché mi è piaciuto tantissimo Lab Care ottimo azienda genovese che vi avevo già menzionato forse in un video di prodotti che avevo comprato proprio sul loro sito ho finito questo campioncino che non ricordo da dove arrivi se me l'hanno dato in farmacia o se l'avevo trovato in una rivista del gel detergente purificante pulizia profonda della Vichy Normander mi è piaciuto mi è piaciuto davvero davvero tanto buono un profumo molto fresco detergente molto bene ed è delicatissimo buono 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 potrei ricomprarlo in full size mi è piaciuto tanto finito finalmente questo burro cacao non neanche scavato perché non so penso abbia gli anni di Noè la vivo in ufficio l'ho finito adesso comunque o dovrei scavarlo ma perché così mi taglia completamente la bocca non lo scavo perché penso che abbia più di 5-6 anni non so neanche penso che abbia anche cambiato la ravello la marca comunque io non so se il Pao se voi considerate il Pao cioè quando scade lo buttate via io finché comunque i prodotti non hanno un cattivo odore non hanno una cattiva consistenza li utilizzo come gli yogurt la ricotta la mozzarella a casa o quant'altro nel frigorifero che mi dice scadenza entro lo sappiamo benissimo che è solo un'informazione per controllare che non siano poi effettivamente deteriorati però se non sono deteriorati io li utilizzo giuro questo penso che abbia più di 5 anni sicuramente e ha fatto il suo lavoro è finito e basta lo lasciamo così anche questo l'ha utilizzato la Lucia erbolario acido ialuronico shampoo effetto filler sempre trovato nel calendario dell'avvento di erbolario questi prodotti mi ha detto che li sono piaciuti tantissimo e quindi probabilmente andremo a comprare le full size per lei visto che su queste cose ci tiene finito il siero alla niacinamide il 20% acido azelaico vitamina C acido ascorbico fantastico sto utilizzando tutti questi sieri di nakomi uno più buono dell'altro e oltretutto i prezzi sono veramente stracciati se non li avete mai provati dateli un'opportunità perché hanno dei sieri veramente ottimi ne sto utilizzando uno adesso che è un siero lenitivo al latte di cocco non mi ricordo più poi ve lo farò vedere in un video di skin care sono veramente buonissimi mi è piaciuto proprio tanto 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 buono e questo lo mettevo alla mattina vediamo se c'è ancora qualcosa ecco ve lo faccio vedere era in gel si asciuga subito e vi lascia la pelle compatta e luminosa buono 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 devo andare a scuola per capire come farvi vedere le cose alla telecamera comunque ottimo anche questo va nei top anche questo ginepro nero una profumazione che è meravigliosa mamma mia tra l'altro perde tutta l'acqua shampoo doccia energizzante anche questo l'ha utilizzato Lucia il profumo è buonissimo ho sentito in erboristeria appunto dall'erbolario la profumazione del profumo e del e del dopobarba che è piaciuto molto anche a a Meli di Meli Madin Sud ne parlava nel suo ultimo nel suo ultimo video ed era uno dei preferiti di questo ultimo periodo è veramente buonissimo non lo trovo assolutamente maschile lo trovo unisex ma anche molto molto femminile intrigante molto buono molto molto buono e di maschere ragazzi non come le altre volte ne ho veramente veramente pochissime ah ecco qua c'è un altro dentifricio protezione completa conad fluoro zinco citrato e questo è un altro dentifricio quindi tre dentifrici poi fatta questa crema al riso buonissima molto molto lattiginosa lasciava la pelle morbidissima queste creme queste maschere coreane sono veramente fantastiche sono top fatta fatta ecco questi qua sono gli altri due che vi dicevo che ho fatto non mento erano tre confezioni ed erano veramente ottimi fatta questa crema di questa crema questa maschera di garnier favolosa io questa per me è nuova buonissima 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 sono tutte il top ma questa ma questa aveva anche un ottimo profumo profumo e era proprio rimpolpante buonissima questa assolutamente fatta anche questa alla vitamina C 5 minuti con gli estratti di ananas anche questa è molto molto buona ho fatto poi per i capelli allora due questa allora argento vivo correttore tonalità capelli per capelli grigi applicare una volta la settimana mentre l'altra che cos'era ah no questa è la crema per il viso sbagliato niente ho fatto queste due le ho divise però praticamente le ho usate tre volte di qua ne ho fatta due terzi si dice due terzi una volta due terzi l'altra poi ho unito quello che avanzava delle altre due e anche queste sono assieme a questo fantastiche questa linea è veramente meravigliosa professionale a basso costo ma ottima 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 poi adesso ve le faccio vedere un po' perché ne ho utilizzati 750.000 ho provato tutti i campioncini che mi hanno dato non so voi ma ho provato tutti questi campioncini di profumi di Yves Rocher allora Sur Le Land 1 e 1 2 poi Matin Blanc anche di questo 2 alla sera mi li mettevo sui polsi sul collo e poi la salviettina la metto sempre nei cassetti della biancheria in modo che profumi la biancheria Plain Soleil Sel D'Azur ma me sti campioncini qua non mi dicono niente cioè Yves Rocher regalaci i campioncini come quelli che ci sono in tutte le profumerie a me sembra che profumino di meno non riesco a capire il profumo effettivo di questi profumi quindi poi alla fine ho comprato due piccoli flaconcini che erano in qualche kit di Natale o forse anche prima e poi alla fine mi sono comprata i profumi perché mi sembra che dal campioncino io riesca a capire di più la profumazione e poi la posso provare la tengo un'ora o due questa roba qua dopo dieci minuti non si sente più niente francamente sono delle salviettine che secondo me sono inutili scusatemi ma non mi piacciono e Queer Denuit e Sable Fauve non lo so che cavolo si dicano comunque questi qua alla fine comunque questo l'ho comprato Queer Denuit e ne ho comprato anche un altro che non mi ricordo più il nome no non era questo comunque poi ve li farò vedere ma perché li ho sentiti nei campion nelle mini sites poi questa della frudia al latte di cocco è ottima fatta questa di Geomar fantastica 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 buona 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 assolutamente e non si secca neanche quando la lasciate su non c'è neanche bisogno di passarci l'acqua spray perché questa assolutamente non si secca una maschera meravigliosa ve la consiglio questo puralg un detergente 3 in 1 della Yves Rocher ho comprato anche la full size mi piace tantissimo questa linea me la sono regalata io me stessa medesima autoregalo vi farò anche il video degli autoregali anche questa con argilla bianca e fiore di malva della della non è della Geomar questa non è della Geomar anche questa non mi ricordo ho tagliato via tutto quindi non lo so Santa Peppina e no non si vede niente non mi ricordo se è della Geomar comunque era buona anche questa e infine mamma mia mamma mamma mia fantastica ho fatto questa mascherina per gli occhi favolosa adesso ho tutta la linea che avevo comprato al Ticota in mega sconto quest'estate e comincerò a usarle questo è un siero favoloso buono 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 bene ah no ultimo profumo rosa purpurea di ervolario mi avevano dato un camponcino mi piace mi piace mi piace mi piace probabilmente lo comprerò più avanti bene io penso di aver finito vi saluto vi ringrazio di essere arrivati fino a qua se qualcuno c'è ancora e ci vediamo nei prossimi giorni con qualche nuovo video e vediamo decidiamo che cosa fare un abbraccione grazie buona serata e buona continuazione di vacanza perché è ancora in vacanza e buon lavoro invece perché ha già ricominciato a lavorare un bacione e grazie di tutto ciao e a presto a presto